Desidero attraverso Monreale News salutare tutte le persone che si collegheranno con Monreale News. Esprimo la mia vicinanza a tutte le persone che stanno trovando qualunque tipo di difficoltà in questo momento, agli anziani esposti alla solitudine, a quanto subiscono le conseguenze della crisi economica e lavorativa. Manifesto la mia riconoscenza a tutti gli operatori sanitari, ai volontari, alle autorità amministrative, politiche, ecoscientifiche che fanno del loro meglio per arginare il coronavirus. Invito tutti a osservare in modo rigoroso le norme che sono state dettate dal Governo, le misure igienico-sanitarie che noi anche abbiamo messo in un manifesto, lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie, evitare abbracci stretti di mano, evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, non toccarsi gli occhi, il naso, la bocca, coprirsi bocchia e naso se si tossisce, poi pulire le superfici con disinfettanti, usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si presta assistenza a persone malate. Certo, questi provvedimenti del Governo, ecco, dalla gente sono stati presi prima con una certa diffidenza, però erano necessari e anche con sofferenza, però ecco sono necessarie per salvaguardare la salute di tutti i cittadini e quindi è importante, ecco, che queste norme vengono rispettate. Sono stato colpito leggendo la storia di un mio predecessore, Monsignor Venero, quello che appunto a partire dalla peste poi ha costruito la Chiesa del Crucifisso, che oltre a momenti di preghiera come le quarantone, imponeva la quarantena e tutta una serie di misure in qualche modo simili a quelle di oggi. Le persone devono stare a distanza di 10 palmi, era vietato ai bambini, alle donne, uscire fuori, girare per le case, era vietato che entrassero persone fuori da Monreale e poi tutta un'altra serie di norme igieniche come quella di pulire le case, di profumarle allora con l'alloro, con il rosmarino. Ecco, allora capiamo come queste misure che sono state prese nel passato sono a maggior ragione necessarie oggi in cui gli scienziati ci dicono che per isolare questo virus dobbiamo isolarci in casa, dobbiamo stare a casa. È difficile per noi che siamo abituati ai contatti sociali, per noi che siamo abituati a darci la mano, ecco, però è un sacrificio necessario. Come vescovo però, ecco, voglio incoraggiare tutti i fedeli dicendo che Dio non ci abbandona, ecco, dicendo come ho messo nel messaggio che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio e quindi invito, ecco, alla preghiera, una preghiera personale che può essere fatta all'interno delle case, può essere fatta nelle famiglie, le famiglie sono invitati anche a fare la catechesi ai bambini perché le famiglie, i genitori, sono i primi educatori dei figli. È importante la collaborazione con tutte le autorità civili e militari perché questo morbo terribile che adesso è una pandemia, cioè diffusa in tutto il mondo, possa essere sconfitto con la collaborazione di tutti. Grazie a tutti.